Giulia Delellis, che è stata nominata finalista, potrà accedere direttamente all'ultima puntata del GFVIP. Tuttavia in quest'ultima settimana è accaduto qualcosa che potrebbe compromettere la sua posizione privilegiata. Ciò ha scatenato una vera e propria polemica sui social. Da un lato ci sono le sue fanse sostenitrici, pronte a tutto pur di difenderla, dall'altro ci sono coloro che vorrebbero la sua eliminazione, soprattutto dopo ciò che è successo. Infatti, la fidanzata di Andrea Damante, sempre molto schietta e senza peli sulla lingua, stavolta avrebbe assunto dei comportamenti discutibili. In passato, aveva già dichiarato di non accettare mai di bere dal bicchiere di uno sconosciuto in discoteca, in quanto poteva essere di un drogato o di un gay, ora invece rispetto all'orientamento di un ragazzo di cui parlavano all'interno della casa, ha detto.